Per chiudere la trasmissione qui in compagnia del direttore generale dell'Entella Matteo Mateazzi abbiamo parlato di Serie B, di Serie A, di Geno e Sampo e parliamo anche di quello che molti ormai definiscono lo stile Entella fa piacere quando si incomincia a definire uno stile, quello che è il vostro metodo di lavoro? Sì, sicuramente in questi anni abbiamo costruito grazie al comportamento che abbiamo sempre avuto quello che viene chiamato lo stile Entella che è uno stile che ci contraddistingue fuori e dentro al campo e di cui siamo orgogliosi tutto viene dal modo di lavorare che ci ha insegnato il nostro Presidente, il Presidente Gozzi è ovvio che non dobbiamo confondere il nostro stile dalla voglia che dobbiamo avere dalla cattiveria che dobbiamo sempre portarci dentro, dalla rabbia in tutti i settori perché per ottenere grandi risultati non basta essere corretti e comportarsi nella maniera giusta ma bisogna sempre cercare di migliorarsi e di cercare di far sempre qualcosa di più rispetto a quelle che sono le proprie possibilità Anche quando si parla di giocatori che vengono qui a Chiaveri vengono sempre molto volentieri evidentemente anche perché poi il nome dell'Entella è circolato, ormai è diventato una garanzia anche tra molti addetti ai lavori Sì, il nostro orgoglio deve essere quello che i calciatori vengano a l'Entella per migliorarsi per cercare di trovare un percorso formativo per completare il loro iter come calciatori perché comunque qua a Chiaveri si lavora bene, gli staff sono competenti c'è tutto per dare il meglio e la tranquillità dell'ambiente permette ai calciatori di concentrarsi solamente sulla cosa più importante che è quella di allenarsi bene e di giocare quindi c'è grande attenzione durante la settimana perché tutti siano concentrati sull'obiettivo sportivo e non ci siano dispersioni di energie Tanti giovani, c'è un numero che racconta di 11 ragazzi che hanno esordito dal settore giovanile nell'Entella la prima squadra in due anni se non sbaglio sono numeri che fanno riflettere in positivo Sì, sono numeri importanti che sono il coronamento di un percorso di 10 anni che adesso comincia a dare i suoi frutti non dobbiamo fermarci perché nel calcio non ci si può mai fermare non bisogna mai smettere di tentare di migliorarsi perché questa società, questa struttura in vari ambiti ha ancora dei margini e dobbiamo crescere sotto diversi punti è chiaro che il risultato raggiunto fino adesso è il risultato che ci fa capire che la strada giusta è quella intrapresa dobbiamo insistere, cercare di trovare sempre i profili più importanti di formarli, avere la pazienza di aspettarli perché a volte ci sono i ragazzi come dimostrano i percorsi di tanti calciatori che esplodono più tardi, bisogna avere il tempo di aspettarli e di farli giocare nel momento giusto Risultati importanti sul campo dei giovani risultati importanti raggiunti anche sui banchi di scuola penso che questo vale quanto lo scudetto primavera Sì, questo è un lavoro il cui merito va alla dottoressa Croce che sta facendo un lavoro straordinario già ormai da tre anni si è concentrata su questo obiettivo e devo dire che la serietà e la meticolosità con cui si applica tutti i giorni sul lavoro di questi ragazzi sullo studio ci sta dando grandi risultati ed è un valore aggiunto in questo momento per i ragazzi per le famiglie e per l'Entella perché sicuramente avere dei ragazzi che hanno la coscienza di quello che vuol dire studiare, essere preparati di quello che vuol dire crearsi un futuro anche al di fuori del calcio è fondamentale La Serie A che cosa può essere per l'Entella? Un sogno, un obiettivo a media scadenza o qualcosa di realizzabile? Beh, un sogno, per me è un sogno non bisogna mai smettere di sognare come giustamente dice il nostro presidente sicuramente non possiamo io non lo considero un obiettivo di medio termine perché ci sono degli altri obiettivi più importanti per me, per questa società che è la crescita di tutta la struttura anche proprio dell'infrastruttura che abbiamo ci sono delle priorità che secondo me vanno portate, messe davanti a un obiettivo comunque incredibile come la Serie A però dobbiamo crescere come società come valori tecnici ancora e come infrastrutture sinceramente sarebbe il mio sogno da direttore generale poter incidere in questo senso per questa società e regalare ai nostri giovani qualcosa di importante in cui lavorare In questo segno, il sogno, quale sarebbe il sogno del cassetto di Matteazzi? Parlare di infrastrutture, creare una città dall'aerosport? Sì, sicuramente il centro sportivo è veramente un sogno nel senso che siamo collocati in una città in una struttura dove difficilmente sembra possibile trovare gli spazi per creare una cosa del genere però anche lì è un sogno e possono capitare delle occasioni dobbiamo sempre essere attenti perché può succedere che da un momento all'altro ci sia la possibilità di trovare uno spazio per fare qualcosa di importante in quel momento dobbiamo essere pronti perché è l'unica cosa che secondo me che manca a questa società in questo momento Quale può essere la società da cui prendere spunto per l'Intella da qui ai prossimi dieci anni? C'è un modello da seguire? Per tanti anni, l'ho detto, è stato Lempoli che adesso sta vivendo un momento difficile però sicuramente Lempoli ha sviluppato un programma sui giovani a medio termine che gli ha dato risultati incredibili adesso in retrocesso ha perso un po' di smalto anche nel settore giovanile però è una società che sicuramente in questi anni ci ha insegnato molto e da cui ci siamo ispirati Ultima domanda Play-off lo scudetto della primavera o un titolo tra i giovani? Alla fine dell'anno quale sarebbe la cosa più bella da ottenere? Tutti e tre? Diciamo che penso i play-off per questo motivo perché comunque il risultato sportivo ha più valore tra i grandi mentre sono convinto che nel settore giovanile si possa lavorare e produrre giocatori importanti anche senza risultati eclatanti quelli ovviamente fanno piacere siamo onorati di averli fatti nel passato l'anno scorso però ci possono essere anche anni in transizione senza grandi risultati sportivi però con una crescita costante e continua che magari può passare anche un po' nell'ombra come risultato sportivo Qui al Comunale di Cavari arriva la prossima partita al Brescia come finisce? Il pronostico secco? Il pronostico secco è molto difficile sicuramente noi dobbiamo confermarci perché abbiamo dato un segnale a noi stessi soprattutto facendo capire che possiamo possiamo disputare un buon campionato siamo una squadra che che ha dei valori che è un gruppo forte che si è esaltato nella partita di Cittadella in questo momento c'è grande compattezza l'amalgama giusto tra lo zoccolo duro di questa squadra e i nuovi giocatori che si sta formando e questo è l'obiettivo primario in Serie B è creare un gruppo come questo e in questo momento sembra che ci siamo riusciti che ci siamo riusciti